Bo! Bo! Bo sei con noi! Ciao amici! Lui è Daisy e io sono Bo, il mago! Siete pronti a partire? Bo sei con noi! Bo sei con noi! Bo sei con noi! Tutti insieme andiamo dai! Il movimento è via, guidate l'energia Per poi salire su! La bo potenza è qui, si è bella che è così Bo, bo, bo sei con noi! Ti c'è da fare, stai, ti aiuteremo noi Muove i bibi e anch'io lo farò Non smetteremo mai, ci muoveremo e poi La bo potenza riceverà! Bo sei con noi! Bo sei con noi! Bo sei con noi! Tutti insieme andiamo dai! Massima bo potenza! Il pirata mangia frutta Tutto ciò è molto strano Ciao amici! Che bello vedervi di nuovo! Guardate! Qualcuno ha mangiato tutta la nostra frutta C'è soltanto una persona che può sapere chi ha mangiato la nostra frutta Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire Volete aiutarmi? Vi va! Grazie mille, amici miei! Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci Dobbiamo entrare nella nostra bozzona La bozzona! Coraggio, amici miei! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere Spostate quei giocattoli e tutto il resto Così entreremo in azione presto presto! Create la vostra bozzona! Noi siamo quasi pronti! Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago Mettetevi al centro della vostra bozzona Puntate il dito in aria Così Adesso ruotatelo per benino Continuate a ruotarlo! Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete energia mi date E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo Ora con l'altra mano Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massimo a boh potenza! Il mago! Il mago, sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Bo! Oh, grazie! Io adoro la frutta! Qualcuno ha mangiato la vostra frutta! Il mago sa ogni cosa! Chi potrebbe essere? Fatemi vedere! Ah, è il pirata mangia frutta! Cos'è un mangiato a pira frutta? Il pirata mangia frutta è una creatura vorace! Tutto il giorno mangiare frutta gli piace! Più frutta mangia, più la fame sente! Così ogni giorno mille frutti mangia avidamente! Mille frutti al giorno, hai detto? Stai forse dicendo che quella creatura potrebbe mangiare tutta la frutta che si trova al mondo? Tremo di sì, Bo! Niente più mele, né arance, né fragole o ciliegie! Né banane! C'è soltanto una cosa da fare! Trovare il pirata mangia frutta e impedirgli immediatamente di mangiare tutta la frutta degli altri! Per trovare il pirata mangia frutta dovrete entrare nella camera delle porte! La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più! Dietro la porta numero tre troverete ciò che cercate! Ecco, guardate! Il salata mangia stufa! Trovate quelle tre porte e troverete il pirata mangia frutta! Grazie mille, mago! È stato un piacere! Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione! Quindi bisogna trovare tre porte! Per far apparire la prima porta dobbiamo correre sul posto! Siete nella vostra bozzona! Bene! Allora conto fino a tre, poi correte con me! Uno, due, tre, via! La camera delle porte! Coraggio amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti! Ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare... Potete marciare... O camminare! Ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massimo bo' potenza! Forza, amici! Correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Siamo arrivati alla prima porta! Guarda, un cocomero! È chiuso! Occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come una giraffa! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Su, le braccia tendiamo! E... saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Coraggio, oltrepassiamo la porta del cocomero! Andiamo! Guardate quanti cocomeri! Vedete la nostra prossima porta? Guarda! Eccola lì! Si trova in fondo al campo di cocomeri! Credo proprio che sarà super facile! Ehi! Torna qui, cocomero! Che cosa sta succedendo a questi cocomeri? Benvenuti nel campo dei cocomeri che affondano! Il pirata mangia frutta ha scavato buche nel terreno per poter prendere cocomeri e mangiarli senza freno! Ora il terreno è pieno di buche, quindi fate attenzione! Dovrete passarci sopra per concludere la vostra missione! Ma queste buche sono troppo grandi da superare! Come faremo a evitarle a non caderci? Per passare sopra le buche dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi quale animale dovremmo imitare per superare le buche nel campo di cocomeri? Un verme che striscia? Un pinguino che ondeggia? O una giraffa dai passi giganti? Una giraffa dai passi giganti? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per superare le buche che ci sono nel campo di cocomeri dobbiamo fare dei passi lunghi lunghi come quelli di una giraffa! State a vedere me! Desi fa passi giganti come una giraffa! Diventiamo anche noi delle giraffe! Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre! Poi fate come me! Uno, due, tre! Via! Passo, passo, passo! Passi decisi e lunghi! Ecco come dobbiamo avanzare! Alte giraffe con le zampe lunghe dobbiamo sembrare! Fate passi da giganti! Oh oh! Mi serve altra energia! Camminate con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza a brillare fate! Allungate le gambe più che potete! Fate passi da giraffa e procedete! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima boh potenza! Coraggio, amici miei! Fate altri passi giganti da giraffa! Siamo quasi arrivati! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato il campo dei cocomeri che affondano! Ci siamo riusciti! Anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare poi! Forza! Ballate con noi! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! La seconda porta! Una banana! Una banana! È proprio vero che ai draghetti le banane piacciono molto! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super, fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come una torre! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Su, le braccia tendiamo! E... Saltiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Coraggio, oltrepassiamo la porta della banana! Andiamo! A banane! Qualcuno sta mangiando tutte le banane di questi alberi! Mi dispiace, Daisy! Per caso vedete l'ultima porta? Guarda! Forza, amici miei! Bisogna darsi da fare! Queste bucce di banana sono troppo scivolose per poter camminare! Ma come faremo a raggiungere la nostra porta? Benvenuti nella piantagione delle bucce di banana scivolose! Il pirata mangia frutta è passato anche qua giù e ha lasciato solo bucce e niente di più! Le bucce di banana sono scivolose e non cercate di passare! Se non volete cadere a quattro zampe dovrete camminare! A quattro zampe? Devo ammettere che è uno strano modo di camminare! Per oltrepassare la piantagione di bucce di banana scivolose dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi quale animale dovremmo imitare per camminare a quattro zampe e non scivolare sulle scivolose bucce di banana? Un'elefante che calpesta? Un piccolo insetto che cammina? O un pinguino che ondeggia? Un piccolo insetto che cammina? Ottima scelta! Per oltrepassare la piantagione delle bucce di banana scivolose dobbiamo camminare, camminare a quattro zampe come un insetto! Desi si comporta già come un insetto! Camminiamo a quattro zampe anche noi! Siete nella vostra bozzona? Bene! Ora conto fino a tre! Poi camminate con me! Uno, due, tre... Via! Coraggio, amici miei! Si inginocchiatevi e camminate a quattro zampe anche voi! Dovete strisciare sul terreno come facciamo noi! Bucce di qua, bucce di là... Fate attenzione, ce ne sono in quantità! Continuate ad avanzare! Oh oh! Ho poca energia! Avanzate con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brilla ripate! Forza, insettini! Intorno ai tronchi! Un po' di qua, un po' di là... Non siate stanchi! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima boh potenza! Siete bravissimi, amici miei! Siamo quasi arrivati! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo oltrepassato la piantagione di bucce di banana scivolose! Ci siamo riusciti! Anche grazie a voi! E' ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Che ballo super scatenato, amici miei! Una banana! A quanto pare il pirata mangia frutta non ha mangiato tutte le banane! Che banana strana! Guardate! E' ricresciuta! Sa proprio di banana! E di mango! E di papaya! E di papaya! E di fragola! E di pesca! E di tutta quanta la frutta che esiste al mondo! Questa deve essere di sicuro la banana mille sapori senza fine! Sarà meglio tenerla da parte, Daisy! Non si sa mai! Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! Il pirata salta frutta! Il pirata mangia frutta! Non è chiusa! Forza, amici miei! Dobbiamo salvare la frutta di tutto il mondo! Wow! Indovinate chi vive qui! Il pirata mangia frutta! Immaginate quanta frutta ha su questa nave! Se mangia mille frutti al giorno, tutti i giorni! Avrebbe bisogno di una quantità infinita di frutta! Così magari ne lascerebbe un po' anche a noi! La banana! Non ora, grazie, Daisy! Sto tentando di pensare a una frutta... senza fine! Aspetta un momento! Noi abbiamo la banana a mille sapori senza fine! Bravo, draghetto Daisy! Sei un vero genio! Datti da fare! State a guardare, amici miei! Ehi! Patata cambia multa! Asseggia questa! Credo che al pirata mangia frutta a piaccia molto! Moltissimo! Non c'è niente di meglio di un frutto fresco quando si fa un po' di movimento! Io adoro le banane! Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici! Abbiamo salvato praticamente tutta la frutta del mondo! Anche grazie a voi! Anche grazie a voi! Siete ancora nella vostra bozzona? Allora facciamo un altro ballo di Bo! Il ballo più sfrenato di tutti! Ci siamo riusciti! Anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Forza! Vediamo che ballo sapete fare poi! Coraggio, amici miei! E ricordate? Continuate a muovervi e sempre in azione! Ciao! Grazie a tutti! Grazie per la visione!